per tenere fede ad una certa tradizione di eccentricità se vogliamo di questo canale anche oggi farò un video un po' differente dal solito e in cosa consiste questa differenza che in realtà oggi farò pubblicità molto fra virgolette ovvero vi racconterò di altri canali youtube parlerò di concorrenti potenzialmente detti e passatemi la risata bonaria perché io credo che in questo grande calderone di creativi la strada migliore sia sempre quella della collaborazione e della stima reciproca con chi appunto si stima che la strada migliore per anche affermare le proprie idee sia quella di non aver paura di parlare delle persone che si stima